Un primo commento a caldo con coach Mattia Ferrari. Come ho detto alla squadra abbiamo poco secondo me da rimproverarci, certo ci sono stati degli errori ma credo che l'antefatto di questa partita spieghi moltissimo della situazione. Noi stamattina abbiamo fatto il solito lavoro pre-gara la mattina della partita, i giocatori vanno a casa a mangiare, a riposarsi, si svegliano dal riposo pomeridiano e Masciadri chiama, ho la febbre, Scarponi chiama, ho la febbre e sto vomitando come un pazzo, Landi chiama, non mi sento bene, ho la dissenteria, non avevamo avuto per lo stesso motivo gli ultimi due giorni e l'abbiamo messo in campo in condizioni obiettivamente anche difficili. Francesco è stato bravo però a un certo punto è venuto al merito, Mattia non ho più le gambe perché due giorni anche lui di febbre, di virus intestinale era stato obiettivamente molto debilitato per cui è logico che le nostre rotazioni erano ridotte all'osso, due giocatori in meno, due giocatori in campo perché stavano un pochino meno peggio degli altri. Abbiamo giocato una partita come si è visto alla fine di poca qualità mentale ma di grande rabbia tant'è che l'inizio è stato confuso, loro ci hanno punito con canestri da tre punti e a ripetizioni anche difficili però come sempre non ci siamo disuniti, siamo arrivati, avremmo potuto anche pareggiare sulla sirena. Secondo me nel momento anche importante della partita, diciamo gli ultimi cinque minuti abbiamo forse giocato anche il miglior pezzo di pallacanestre che abbiamo fatto perché abbiamo difeso e abbiamo sempre costruito tiri in attacco. Non è che abbiamo fatto tiri stupidi, perciò tiri con i piedi per terra con grande vantaggio logico non avevamo dei quintetti equilibrati, giocatori che giocavano fuori posizione magari anche in situazioni in cui giochiamo con Tassinari, Meluzzi e Johnson contemporaneamente insieme che siamo veramente piccoli e a numba da quattro, cioè una squadra che ha dei limiti fisici presentata così però come ho detto alla squadra non abbiamo nulla da rimprovinare, ci spiace per il risultato finale soprattutto perché la cornice di pubblico, tutta la macchina organizzativa che il club aveva messo in piedi per questa partita aveva creato non solo un hype ma una realtà di una serata di sport molto bella e questo mi fa piacere. L'altra cosa che mi fa piacere e questo dimostra ancora di più la conoscenza del pubblico riminese adesso mentre aspettavo di entrare in sala stampa le tantissime persone che mi hanno detto non si abbata, anzi bravi ci avete provato, alcuni sono venuti a chiedere e dire ma perché questo non ha giocato, perché qualcuno non ha giocato perché volevano capire ah vede non lo sapevamo, così per cui voglio dire la cosa bella è quando esci da un campo e le persone ti danno comunque un tributo per la fatica che hai fatto l'hanno fatto a me perché ero lì ma in realtà va ai giocatori un plauso dicendo non vi abbattete succede, c'è stata della sfortuna, avremmo potuto anche pareggiarla con l'ultimo tiro di Tassinale la palla che spugge in mano a Ubeide, quel tapin sbagliato da Numba però voglio dire, ripeto, è così, anche a Udine avremmo potuto vincere di che cosa dobbiamo stare a lamentarci? Giochiamo, giochiamo alla pari con tutti, siamo lì oggi, ripeto, ci sono anche delle scusanti più grosse chiudiamo la partita tra l'altro statisticamente con dieci tiri in più dagli avversari dal campo più rimbalzi di loro per cui obiettivamente dal punto di vista dell'energia ho poco da rimproverare ai miei poi dopo, ripeto, la qualità del gioco, il macello che abbiamo fatto in campo può avere una giustificazione e in più ci sono stati gli avversari che alla fine, un altro dato importante, sono stati in vantaggio per 39 minuti e 30 secondi in questa partita per cui hanno anche loro dei meriti, ci hanno punito, hanno giocato una partita molto solida credo che comunque rimanga la bellezza dello spettacolo nel complesso una bella partita di alto livello, un pubblico incredibile, un'atmosfera pazzesca credo che sia un altro tassello a favore della società, di rinascita basket Rimini e di quello che sta facendo sul territorio per cercare di riportare uno sport di alto livello con grande tradizione come la pallacanestro a Rimini e il pubblico sta rispondendo in maniera straordinaria Ci sono domande da parte dei giornalisti? Coach, buonasera, è al netto un po' di tutte le difficoltà e ti volevo chiedere un tuo parere sull'avvio di gara che purtroppo ha finito un po' per influire sulla partita, ti volevo chiedere un tuo parere sull'approccio Allora, l'approccio è sicuramente un po' condizionato dal fatto che ok, arriviamo e come sta Masciadri? Ma adesso vediamo se gioca o non gioca così Stefano prova a fare due movimenti sul campo e dice guardate mi gira tutto non sto in piedi, non riesco a giocare, bene, Aristide parti tu dall'inizio Aristide va su, inizia a fare la ruota, guarda i dottori e gli dice le medicine non stanno facendo effetto, non mi sento le gambe voglio dire, abbiamo, secondo me un pochino abbiamo risentito questa cosa poi dopo Aristide ha detto no dai, ci sono ma provo tu vai in campo con un giocatore che prova a vedere come riesce ad approcciarsi alla partita poi ci sono i meriti avversari, loro sono partiti molto determinati, molto concentrati infatti anche canestri difficili, noi abbiamo fatto qualche errore dal punto di vista difensivo loro ci hanno punito, in attacco all'inizio siamo stati un pochino non bravi nel muovere la palla sapevamo che loro ci avrebbero aggredito su pick and roll, sapevamo che avrebbero aggredito jazz avremmo dovuto muovere un po' meglio la palla però ripeto, la partita dura 40 minuti, tante volte alla fine del primo quarto sei sotto, sette, otto punti, non è che vai a casa e dici oddio abbiamo perso in realtà c'è stato uno sviluppo, siamo tornati più volte a un possesso, più volte a un punto a due punti con l'inerzia in mano e in alcuni momenti, ripeto, quando siamo arrivati lì mi viene in mente un tiro da tre punti di Anumba dall'angolo, un altro tiro di Land cioè tiri costruiti perfettamente, 4, 5, 6 passaggi e uno che tira con 20 metri adesso lascia stare il nome Anumba piuttosto che Piripuzzi, non cambia niente voglio dire tiri costruiti con giocatori che possano fare dei canestri con grande lucidità e grande voglia di stare lì, di sapere che anche nelle difficoltà dobbiamo essere ancora più pronti dal punto di vista, ripeto, dell'impatto abbiamo preso 14 rimbalzi in attacco cosa si può chiedere di più? Avremmo potuto giocare meglio? Sì ci sarebbe piaciuto giocare al completo? Sì, siamo dispiaciuti per la sconfitta moltissimo, però, ripeto, guardiamo avanti, secondo me le sconfitte che devono preoccupare sono altre, non questa, adesso dobbiamo semplicemente sperare che questo virus intestinale che venerdì aveva colpito Bedetti, oggi ne ha colpiti altri tre, ci lascia in pace che non iniziamo la settimana come potrebbe succedere con uno, due, tre che domani chiamano e iniziano a stare male e dobbiamo pensare alla prossima partita questo è, è quanto, ma non è, non voglio minimizzare, cioè, non voglio minimizzare però penso che sia un punto di vista onesto e abbastanza equilibrato di quella che è stata la situazione odierna Un'ultima cosa, coach, volevo chiederti, nel finale avete trovato poi dei canestri pesantissimi anche con quella tripla di tabella di Meluzzi che è stata pesante per tenervi in vita però si è registrato il quinto fallo di Johnson, quel quinto fallo secondo te quanto ha pesato non averlo nei minuti finale? Beh, è logico che noi vorremmo sempre che i Jets finisse la partita in campo però credo che la squadra abbia dimostrato che per una volta i nostri americani che hanno giocato comunque in maniera importante non hanno cantato e portato la croce hanno giocato una partita con anche degli errori e abbiamo trovato dentro la partita altri giocatori che sono riusciti a tenere in piedi le cose dal punto di vista dell'impatto fisico dal punto di vista della realizzazione, Meluzzi, Landi per cui, ripeto, secondo me ogni volta dimostriamo di fare un piccolo passo in avanti poi è logico che siamo 9-20-11 perse se avessimo vinto questa qui con la di Udine saremmo 11, però non avreste potuto perdere le altre secondo me, ripeto, perché poi di solito si tende sempre a guardare quelli che hai perso e non quelli che magari hai vinto in qualche modo adesso, ripeto, i processi e le intenzioni non mi piacciono io so anche essere molto duro con la squadra non mi pare che questo sia il momento di essere la squadra non lo merita dobbiamo semplicemente rimetterci lì recuperare i giocatori che hanno adesso queste problematiche fisiche e da martedì mattina tornare a pensare a come costruire la prossima partita che comunque è un altro scontro importantissimo adesso a sei giornate dalla fine diciamo che tutto acquisisce un peso grande per noi Coach, un primo commento a caldo su questa vittoria? Credo che i ragazzi abbiamo avuto un impatto straordinario sulla partita che in parte e non solo anche a livello statistico ha segnato la partita perché poi andando a leggere i successivi tre quarti al netto dell'ultimo gli altri due sono stati vinti da Rimini ma l'approccio sicuramente è stata la prima pietra importante a questo punto vi viene da dire fondamentale anche per giocare poi una partita di grande fiducia i giocatori hanno giocato seguendo il piano partita che sia attacco che sia difesa hanno aggiunto a questo valore il loro proprio valore singolo perché nei momenti di difficoltà in più di un'occasione hanno dimostrato una grandissima presenza e lucidità è una partita che per noi vale punto esclamativo per me vale con due punti esclamativi perché giocato contro una squadra e l'ho detto in tempi non sospetta allenata benissimo con punti di riferimento certi e con giocatori come poi è stato che al di là di Ogbeide e di Johnson possono veramente fare la partita a Sprazi Landi poi Tassinari comunque è un giocatore di grande aggressività e quindi Meluzzi ha fatto canestro vero quindi credo che al di là del valore il valore dell'avversario in questo contesto dia valore alla nostra partita e il merito assoluto intoccabile indiscutibile è per i ragazzi perché hanno giocato una partita di approccio straordinario e di tenuta mentale importante Ci sono domande da parte dei giornalisti Cosci le chiedo ancora dove si è deciso oppure in quali episodi si è decisa secondo lei la partita in quali momenti decisivi Credo ribadisco l'impatto perché l'impatto e l'approccio dalla palla 2 dei primi 10 minuti supportati da percentuali di tiro importanti sicuramente ci hanno dato autostima e fiducia per giocare la partita e di fronte a Riviera Banca che ci ha preso ed era arrivata a un possesso correggetemi se sbaglio non ho la memoria corretta forse però ecco lì l'altro momento chiave è il fatto di essere presenti e non abbassare la testa ma trovare soluzioni che siano offensive che siano difensive corrette per non permettere a Rimini di avanzare e di prendere quindi a livello emotivo il trend della partita la partita la partita è la partita